Perché io voglio venire a portare un fiore ai miei genitori, che sono dieci anni, che sono sulla sede a rodelle e questo fatto mi impedisce, mi fa stare pure male, veramente. Nel mese di giugno, con un dettagliato servizio giornalistico e la struggente testimonianza della signora Maria Riccio, che da ben dieci anni era impossibilitata a far visita alla tomba dei propri genitori, come PCML denunciammo con forza il mancato abbattimento delle barriere architettoniche presso l'ingresso principale e storico del comune di Ischia. Pensate che quella odiosa barriera architettonica, che tanta umiliazione arrega da decenni ai disabili, a cui nega l'elementare diritto alla mobilità, a dimostrazione della disumanità politica del potere passato e presente, che nel tempo pure aveva promesso la risoluzione del problema, non è mai stata abbattuta, nonostante fosse composta da appena tre gradini. Che vergogna! Tre gradini che da sempre hanno impedito alla signora Maria e a tutti coloro che vivono la sua stessa difficile condizione di vita di poter accedere alla parte vecchia del cimitero. Ebbene, grazie alla nostra battaglia politica e all'andignazione che provocò nell'opinione pubblica quel nostro servizio giornalistico, a distanza di circa quattro mesi l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Ferrandino ha annunciato di aver messo in atto una soluzione per dare la possibilità ai disabili di poter accedere al cimitero. La barriera non è stata abbattuta, ma è stata acquistata una pedana mobile per consentire l'accesso a chi si sposta in carrozzina. Sono state abbattute, si legge infatti in un comunicato stampa, le barriere architettoniche del cimitero di Ischia grazie all'arrivo di una moderna pedana che, posizionata all'occorrenza sui gradini, rende fruibile a tutti, anche a chi è in sedia a rotelle, la parte vecchia del cimitero. L'augurio, naturalmente, è che la soluzione adottata sia ben funzionale alle esigenze di chi è costretto a circolare sulla sedia a rotelle.